Sono Marco Cacciatore, portavoce Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Marino sono qui per presentare un po' la situazione sulla questione di Vinamore che è quella che principalmente attanaglia il nostro territorio un territorio dilaniato da queste pianificazioni cementificatrici che dalla regione, dalle giunte Marrazzo, ma ben prima avevano già l'intenzione di trasformare il nostro territorio in una serie di palazzine e che purtroppo ci troviamo oggi a fronteggiare di fronte all'inerzia totale della giunta comunale che nonostante emozioni e altri atti portati anche da un'opposizione compatta che vede la partecipazione di altre componenti oltre al 5 Stelle che appartengo ma non quella del PD che sarebbe fondamentale ebbene la giunta si rifiuta di firmare questi atti dando tutta la responsabilità all'ente regionale ma dall'altra parte si dichiara impossibilità ad agire perché altrimenti scatterebbero le denunce dei costruttori che appunto farebbero valere i loro diritti acquisiti. Allora la domanda che ci si fa è questa laddove dovrebbe valere una richiesta di ampliamento del piano del parco regionale della Piantica e quindi il Comune di Marino è impotente ad agire perché è un atto che esorbita la sua competenza vorremmo sapere perché il Comune si preoccupa dei diritti acquisiti che eventualmente quei costruttori dovrebbero andare a desigere nei confronti della Regione e non manifesta la sua azione, la sua attività amministrativa autoritativa che potrebbe benissimo mettere in campo richiamandosi semplicemente all'attesa della decisione del TAR quando il TAR è comunque un organo di giurisdizione che controlla l'attività amministrativa allora la domanda che rivolgeremo noi all'aggiunta è se voi non agite in nessun modo come fa il TAR a valutare e se è vero che state dalla parte dei cittadini perché non votare una mozione che si oppone all'edificazione che chiede il blocco intanto delle pianificazioni volte alla cementificazione del territorio? Domanda